Musica Io oggi sono anche da relatrice per cui vi presento anche la nostra collaboratrice che è fotografa, ritrattista poi infatti vedremo molti scatti molto molto belli che ci fa appunto un intervento legato proprio all'occhio e allo specchio dell'anima a uno sguardo del mondo della fotografia Lascio la parola a Madalina Mancini, grazie Grazie a te Lidia Fotografare e porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore Buongiorno a tutti, io mi chiamo Madalina Mancini e amo quasi da sempre, diciamo, da quando ho coscienza, la fotografia Innanzitutto ringrazio, mi sentiranno, l'agenzia Emotion, Lidia, Giuseppe e tutti coloro che hanno avuto la brillante idea di creare questo progetto all'avanguardia che permette a ognuno di voi e di noi di esprimersi liberamente scegliendo la forma d'arte più idonea alla propria indole Ecco, siamo partiti da questa citazione che tra l'altro è di Henri Cartier-Bresson che è un famoso fotografo nonché uno dei padri della fotografia perché in questa frase è racchiuso tutto ciò che l'arte dello scatto rappresenta Non si può pensare di fare fotografia senza saper guardare Guardare ma anche vedere Guardare e vedere sono due parole che apparentemente sono molto simili tra di loro ma in realtà hanno due significati totalmente diversi Guardare e controllo Guardarsi allo specchio Guardarsi intorno Guardare un film Potrei continuare all'infinito Sono azioni in realtà di dominio su una situazione Sono azioni di analisi di osservazione per quanto attiva comunque distaccata Vedere e percepire e percepire un'emozione e trasferire in emozione ciò che stiamo guardando e quindi diventa un sentire, un vivere sulla propria pelle un creare empatia col mondo che ci circonda È un po' come vivere dentro Ecco perché per fare una buona fotografia per ottenere una buona fotografia è importante sì che sia corretta tecnicamente ma è importante che riesca a trasmettere riesca a trasmettere e ad emozionare Io vi faccio un esempio non so, io mi sono immaginata un campo basso di fiori pieno di fiori, tutti belli, colorati a un certo punto la mia attenzione si focalizza su un fiore in particolare Ecco, magari quel fiore non ha niente di che rispetto agli altri oppure mi ricorda qualcosa mi suscita un'emozione semplicemente può essere il più simpatico Ecco, io lì mi fermo dove magari gli altri non danno importanza a quel fiore quindi loro mi passano avanti io mi focalizzo su quel fiore magari gli altri non capiscono nemmeno perché io sia focalizzata su quel fiore però a me trasmette qualcosa Ecco, questo dovrebbe essere la missione della fotografia a dove io riesco a comunicare a farmi emozionare innanzitutto quindi ad aprirmi sia mentalmente a un esame di coscienza a un qualsiasi ragionamento che poi viene trasferito in emozione e questa emozione veicolarla nella maniera giusta perché se io sbaglio il modo con il quale veicolare il mio messaggio a voi arriva un'immagine totalmente distorta di quello che in realtà io volevo comunicare Scattare una fotografia è quindi una scelta è come una meditazione non a caso poi vabbè vi anticipo parleremo di come progettare un'intera proprio una fotografia uno scatto perché niente nasce dal caso o dalla sola fortuna di trovarsi nel momento giusto al posto giusto bisogna saper fermare il tempo non solo fermarlo è fondamentale quindi comunque avere delle nozioni tecniche pur noiose diciamo a livello strumentale dell'attrezzatura che abbiamo in mano però è fondamentale perché senza le basi non vi sono le altezze se io non conosco le regole non posso infrangerle non posso permettermi il lusso di evadere con la mente e dare libero spazio alla creatività anche in maniera stravagante oggi siamo tempestati da immagini in ogni dove dicevo pure Lidia prima purtroppo o per fortuna e a volte queste immagini se appunto comunicati dei messaggi comunicati in maniera sbagliata ci danno un'idea anche della vita quotidiana un po' distorta alterata e quindi a volte ci sballa anche un po' perché magari poi magari pensi ma io pensavo fosse così fino a ieri vabbè invece no dobbiamo stare attenti a come comunicare perché comunicare bene è fondamentale io mando un attimo avanti questo perché scusate se no non si va dunque dicevo scusate e mi permetto di utilizzare una frase un po' cinica però è vera oggi come oggi vedo tante persone con reflex al collo magari da 5.000 euro perché avevano ricevuto il regalo qualcosa e diceva vabbè mi compro macchinetta perché fa figo e quindi postano foto su ogni social con la dicitura PH per carità magari tanti grandi dubito però forse ci saranno pure passati su un qualcosa del genere in ogni caso io vedo tante persone con queste macchinette costose e volevo ricordare che non è il costo della macchinetta o l'attrezzatura che si ha a fare il fotografo e ciò che distingue chi è fotografo da chi fa fotografia è ciò che si è dentro è ciò che mettiamo nello scatto è un po' come mettere in ogni scatto anziché la firma PH il nostro essere il nostro modo di essere la nostra anima ecco ecco perché infatti il mio intervento si chiama l'occhio e lo specchio dell'anima perché fondamentalmente se non si riesce a vedere non si può fare niente non posso comunicare se io non mi apro a un qualcosa di bello che può avere accezione anche negativa che però fotograficamente è bello e lo accolgo con tutte le emozioni né negativo né positivo non riuscirò mai a trasmettere qualcosa anche se l'immagine sarà tecnicamente perfetta rimarrà una bella immagine da guardare ma col passare del tempo dubito che le emozioni resteranno e dunque scusate dicevo appunto perché ci vuole costanza ci vuole impegno ci vuole tanta tanta forza di volontà e allenamento mi viene in mente per esempio io ho fatto anche chitarra nel passato e ho studiato chitarra è come un chitarrista alle prime armi che inciampa sugli arpeggi ma è normale se non ci si mette ogni giorno ad allenarsi un allenamento costante magari mezz'ora al giorno non riuscirà mai nemmeno a improvvisare un pezzo difficilissimo senza più inciampare ecco così è la fotografia ci vuole allenamento perché abbiamo in mano uno strumento al di là delle marche di ogni tipologia è uno strumento che è un po' un'arma a doppio taglio diciamo è un po' un qualcosa che può fare bene e può fare male se è usata bene ok se è usata male ti giochi un po' tutto perché poi magari cominci a intraprendere un percorso che ti porta su una direzione sbagliata ecco perché dicevo che comunque conoscere le regole è fondamentale perché è quello step un po' noioso diciamo un po' come le elementari per la scuola quando vai all'elementari ti pesa tutto si giochi però devi imparare tutto di nuovo poi in realtà quando cresci è tutto un ripassare quello che hai già imparato però ampliandolo ecco è così che si dovrebbe iniziare quindi diciamo che ci sono le basi necessarie da conoscere da capire per poi sperimentarle e così una volta che si è fatta proprio tutto ciò che riguarda la tecnica l'ambito noioso diciamo ci si può permettere anche il lusso di stravolgere quindi ecco che poi cominciano ad arrivare le idee perché io mi sento più sicuro di quello che sto facendo so magari che se voglio ottenere un determinato scatto questo vabbè è uno dei miei preferiti tra l'altro quindi lo lascio un po' lì se voglio ottenere una determinata immagine io ho bisogno di creare di avere oltre l'idea di crearmi una specie di planning un progetto io solitamente spesso e volentieri disegno proprio gli scatti quindi mi mi immagino il gioco di luci l'impostazione l'ambientazione e progetto perché improvvisare va bene ma fino a un certo punto perché poi c'è magari c'è quel dettaglio che fa perdere tutta l'anima dell'immagine e già se io volevo comunicare un qualcosa di particolarmente forte diventa già meno forte e io ho perso non è arrivato magari a me rimane uno come uno degli scatti preferiti ma onestamente l'altra persona dice vabbè però c'è qualcosa che manca è un po' come quando andiamo al cinema vediamo un film che è stupendo poi alla fine quindi così ecco per fare una buona immagine ci vuole l'idea ci vuole il progetto è necessario quindi strutturare tutta una una diciamo un processo complesso ma completo ci possono volere anche mesi per strutturare un progetto fotografico che magari si è in mente perché poi ogni giorno si cambia perché noi cambiamo ogni giorno e quando noi cambiamo cambia il modo di vedere il mondo intorno a noi se cambia il modo di vedere il mondo intorno a noi cambia il modo di fare fotografia ci si sperimenta sempre ci si mette sempre in gioco io costantemente cerco sempre nuove idee nuovi spunti che possano anche su me stessa con autoritratti anche di nudo artistico perché poi è una delle tematiche di cui parleremo nel nel corso anche con il nudo artistico di sperimentare perché io ci tengo a dire perché purtroppo è un po' sottovalutata questo aspetto della fotografia di ritratto in realtà il nudo artistico io lo vedo in maniera forse un po' platonica così un po' romantica però è un gioco di luci è il corpo che si mette a servizio della luce non è la luce al servizio del corpo cioè quando il corpo diventa lo strumento attraverso il quale la luce prende forma e quindi ecco che il nudo artistico diventa un qualcosa di bello da vedere qualcosa di piacevole che magari di cui fareste pure la gigantografia da prendere in casa perché diventa quasi arte ma nel senso proprio non guardi manco più il corpo dici ok proprio ti scordi della bella ragazza che sta lì o del bel ragazzo muscoloso perché diventa un qualcosa di astratto ecco questo per ricollegarmi al fatto che il quando noi andremo a sviscerare il percorso didattico la parte del ritratto verrà analizzata molto durante il corso avanzato perché durante il corso base noi parleremo tantissimo delle nozioni principali della storia della fotografia perché è fondamentale conoscere per poi sperimentare è importante dare spazio ai padri della fotografia di ogni branchia cercheremo comunque di incontrarli tra virgolette per far sì che con qualcosa di ognuno di loro ci trasmetta ci comunica ci influenzi in maniera positiva in modo tale da cominciare a creare una certa personalità fotografica a livello di fotografo io personalmente sono stata influenzata tantissimo a livello personale dalla fotografia perché ormai la uso anche a volte come terapia come valvola di sfogo ma non è una cosa negativa perché a volte la creatività arriva proprio nei momenti più di tilt diciamo mentale ed è lì che c'è quello spiraglio ed è lì poi si apre il mondo e arriva l'idea e quindi diciamo che la fotografia oltre che essere un mezzo di comunicazione fondamentale affiancato ovviamente nulla togliere a tutte le altre per carità però ecco è fondamentale anche perché non essendo magari un video o uno spot in cui tu racconti cioè tu devi raccontare tutto in un'unica immagine devi far sì che in un'unica immagine tu legga tutta la storia e quindi è anche un po' un po' difficile diciamo ritorno al discorso del percorso didattico e se non mi perdo poi io parto per la tangenzale e non mi riprendete più e dicevo si partirà dunque dalle basi per poi arrivare alla diciamo a delle nozioni a livello base sul paesaggio ovviamente basissimo proprio basilare in una maniera tanto preoccupare sta proprio base base e reportage al ritratto che sono diciamo le principali branche poi ogni branche ha le sue diramazioni interne ovviamente il arriveremo a questo traguardo finisce il corso base ci catapultiamo nel nel livello avanzato il ritratto il ritratto come come nasce come come si confronta con la realtà di oggi come viene affrontato a livello tematico didattico emozionale come viene vissuto la forma di ritratto di ritrattistica e soprattutto cercheremo di capire perché la fotografia magari come arte perché è arte diceva pure l'idea prima fotografia è arte e anche come la pubblicità come tutto il resto non sempre se usata per comunicare lo è purtroppo però sono tutti i pro e i contro di ogni di ogni facoltà diciamo il il concetto di ritratto quindi la fotografia veniva vista inizialmente soprattutto dai pittori come un pericolo che arrivano sti fotografi io facevo i ritratti facevo i quadri mi ci mettevo magari due o tre giorni per farli e poi arriva il fotografo che non con i tempi di oggi ovviamente però anche solo magari mezz'ora un'ora riusciva a darmi quello scatto quella cosa e sostituire il ritratto no la fotografia è altro e infatti piano piano lottando ce l'ha fatta è stata riconosciuta come vera e propria forma d'arte a se stante anche se non scordiamoci che tutte le forme d'arte in realtà si influenzano tra di loro ma è anche importante aprirsi a questa influenza e non rimanere fermi e chiusi su questa cosa io volevo parleremo dei progetti struttureremo un progetto alla fine del corso del livello avanzato ovviamente correggimi se sbaglio sarà individuale sarà facoltativo per ogni sì hai tirato fuori l'argomento corso e insomma a questo punto raccontiamo nel complesso sì l'obiettivo in questo caso del corso di ogni corso in questo in questo progetto di appunto Emotion School come avete visto nelle brochurine che abbiamo comunque lasciato è quello comunque di dare la possibilità sia di frequentare il corso online perché molte volte l'esigenza di lavoro e quant'altro quindi a distanza ma anche qui forse in questo volevi fare questa precisazione che magari nel Deppian è scritto velocemente il discorso anche a distanza viene fatto individualmente cioè ci sono delle cose regole che bisogna comunque studiare lì ovviamente le nozioni non le possiamo mettere con il cucchiaino in testa devono essere apprese e poi ovviamente il docente in questo caso esatto si fanno dei progetti individuali con l'obiettivo di creare appunto un lavoro insieme per poi incontrarsi dal vivo fondamentalmente perché il lavoro deve essere altrimenti non sarebbe un mestiere diventerebbe semplicemente un piccolo tutorial bisogna poi creare dei progetti ti lascio la parola poi aggiungo un'altra cosa alla fine va bene grazie e dunque dicevo saper creare impareremo a progettare a ideare a portare a termine tutto quello che è un progetto fotografico fino a parlare della divulgazione mediatica quindi scegliere fare selezione perché ormai con tutti questi social network tempestati internet e qualsiasi cosa rischiamo magari di far fare una fine brutta a uno scatto che davvero merita altro io in conclusione vi ricordo così giusto per ricollegarmi al discorso iniziale che essere fotografo implica tanta passione così come qualsiasi forma d'arte tanta dedizione ma tanto impegno tanto impegno perché se si ha tanto se si ha talento e non lo si sfrutta non ci si allena si è fatto niente quindi al di là della macchinetta allenare l'occhio lo sguardo e il cuore quindi ritornando al buon vecchio Bresson allineare mente occhi e cuore e ottenere lo scatto anche uno solo basta grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione